Presso la Biblioteca Comunale di Trani si è svolto il convegno di studi su Vincenzo Calace. L'intento degli organizzatori è stato quello di portare a conoscenza i caratteri salienti di questo personaggio illustre nella storia politica e sociale dell'Italia della prima metà del XX secolo. Vincenzo Calace era nato a Trani nel 1985 e aveva partecipato con il grado di tenente di artiglieria alla Prima Guerra Mondiale. Ascoltiamo. Qual è l'eredità che questo personaggio storico tranese Vincenzo Calace consegna alle giovani generazioni? È una testimonianza sicuramente irrinunciabile soprattutto in questo momento storico della vita politica nazionale e anche locale. È un personaggio che ha legato la sua attività politica a una forte pulsione ideale, cioè la politica come servizio e non come appropriazione di un territorio o di altro. Su questo Calace ha dato delle prove molto efficaci. Sia nel periodo di contrapposizione con il fascismo ha pagato duramente questa sua contrapposizione con 13 anni di carcere e confino. E dopo la liberazione per esempio Calace ha rifiutato il sottosegretariato ai lavori pubblici ritenendolo una cosa non adatta a lui e un riconoscimento non dovuto nonostante avesse appunto questo trascorso di politico antifascista molto lungo e che aveva pagato caramente. C'è un richiamo a Mazzini specialmente nel rigore morale quando quest'uomo è stato finalmente tornato libero non ha voluto compensi addirittura Mimì Pastina che diriceva io ricordo l'Italia del popolo e voleva che lui scrivesse con il suo nome e poi era una figura, un vero martire della vita di quel tempo, una vittima del fascismo. La politica attuale che cosa insegna? E semmai Vincenzo Calace che dovrebbe insegnare qualcosa innanzitutto questa serietà morale, questo rigore pensi che lui ha cambiato mi pare se non sbaglio 4 o 5 carceri poi il confino e scriveva lettere dolcissime alla famiglia per non farle adorare quindi è come dire un animo buono in una volontà forte perché ha resistito penso che questo sia un segno per i nostri tempi dove certo è più difficile parlare di onestà pubblica prima che privata.